La Contessa di Castiglione dava il culo a Napoleone, la Contessa di Castiglione dava il culo a Napoleone. Mentre a Torino il Mastro Camillo alla faccia di quei due la seminava al Grillo e da Parigi il Bonnigra Ruffiano all'Imperatrice glielo schiaffava in mano il re, il re, il re Vittorio Emanuele durante, 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 durante Solferino vedendo, vedendo, vedendo un contadino gli chiese, te gli chiese, te gli chiese un gran favor me la dai la moglie tua, me la dai la moglie tua, la moglie mia non c'è, non la do neppure al re per l'Italia sulla silla ci son mille cazzi in fila, per l'Italia sulla silla ci son mille cazzi in mal il re Borbone fuggendo a dirotto, messo una massa al culo, infatti l'hanno rotto e Garibaldi rivolto al cavallo, porca puttana Eva, tu mi hai pestato un callo, così, così, così l'Italia la fuffata, 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 fuffata stivaletto, frauna, 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 frauna che abbate un letto, e tu, e tu, e tu, di chi sei figlio tu? Sei figlio di puttana, sei figlio di puttana, sei figlio di puttana E' un caribaldino